Con deliberazione del presidente Nicola Gatta, la provincia di Foggia ha provveduto ad aggiornare per l'anno in corso il piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico inerente alle strade provinciali. Il settore viabilità dell'ente ha effettuato una ricognizione e aggiornamento per l'anno 2021 dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alle strade provinciali, da cui si evince la necessità di effettuare interventi di sistemazione delle frane, al fine di formulare successive richieste di finanziamento da inserire sulla piattaforma Rendis o altri bandi di finanziamento dei lavori e progettazione per un importo complessivo di circa 108 milioni di euro. Nell'elenco delle strade che necessitano di interventi a causa del dissesto idrogeologico ci sono anche la SP6 Lucera Castelnuovo, la SP123 Troia Orsara, la Biccari Roseto, l'Alberona Volturino, la Lucera Alberona Roseto.